Le responsabilità si accettano sempre volentieri, Varese risponde sempre alla grande con il pubblico e credo che sia un fantastico primo giorno di scuola per tutti e credo che ci sia molto molto da lavorare visto che la squadra è quasi completamente nuova. La prima cosa che ho detto ai ragazzi spogliatoio è che le scelte sono state fatte prima sulle persone e poi sui giocatori. Confidiamo sul fatto che il prima possibile si formi un gruppo, un buon gruppo di lavoro e poi grazie alle sapienti mani di Attilio si possa poi creare la chimica giusta per far bene durante la stagione.